siiii moh! hai capito signor? ma il bene è che si tranciano di netto le parti del corpo ma che cazzo è? in chiama questo sembra un mancio di coltello ma quante quattro magnum? il dispettore callaghan steampox no eh? ah! cazzo non abbiamo niente vabbè andiamo con gli steampox steampo 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 uccidendo questo che cosa abbiamo avuto che non mi incontri ah chi aveva? un calcio in culo scatola carate e tuta di elogi elmo da combattimento no, noi ci abbiamo minostri no, piglia l'elmo ti prego e che stiamo scrivendo? piglio la testa sua eh! vai giù con la sua testa che schifo vediamo un po' se è servita qualcosa quella chiave del cazzo che non mi ricordo a che serve nooo mamma iniziano con gli spari bastardi non ce l'hanno come però cazzo si bene sai a che sto pensando? steampox? no ah no no poverini ma non ho fatto un animale muoviti muoviti nooo si allora no 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 e che cazzo si ammazzo no no lo peccati che cune inchia che fuoco eh beh adesso vorrei dire che continuo con due mie soldate aiuto steampox quindi un altro colpo di fatman? no siamo tre po' vicini porca puttana no allontanatevi prego allontanatevi ora si ora si gli altri? ah più o meno sono lì mi conviene beccare questo così magari becco tutti beh infatti sta in mezzo oh porca ora che hai tirato l'ingra oh ma si cazzo gli schiavisti o? ma so forti porca miseria ma non ci può aiutare la teoria la gang del bosco un cazzo di altro? la gang del bosco? com'è se chierò? con l'alluminio l'acciaio? no non ci sta si dite ciao al mio amico si e vai chi è il karma? il karma la cosa se sei buono se sei cattivo se sei mezzo e mezzo sei stato buonissimo perchè gli schiavisti sono cattivi quindi uccidendo dei cattivi diventi uomo e chi cazzo è che mi sta sparando? se lo becco guarda ah che cazzo? è quello stronzo è quest'altro quello stronzo no abbiamo solo un altro proiettile di fatman dove siamo con lui? ora va lo spark io dico che è la spark infatti vai ultimo proiettile di fatman non ce ne sono altri in giro tanti si ce ne stanno ma sono difficili da trovare caperia? ehm non abbiamo un cazzo di niente ti pareva? hmmm granata bronson? chi cazzo sono questi? oh cristo oh cristo no eccolo fai allerta allerta gando si e uno è andato ma anche no 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 con il pugno con il pugno mi lanci la mano regali uso il pugno di lato il pugno di lato il pugno di lato si 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 che fottutissimo per sparta cos'è la 44? allora ninja usa la 44 magna oh cazzo ce ne stanno altri oh cazzo è questo? ghimmi oh cazzo no no sono rimasto senza un cazzo come al solito userò la 32 fottiti eroi vabbè grazie anche a te se beccati questo yimmi fottiti yimmi bellissimo quanto adoro infatti oh cazzo ce n'è un'altra no no amici 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 allora mangi un commirino e vai è il tuo turno scelgo te amici a mira ma come mira cazzo e fa un male della madonna con due colpi era andato non vorrei essere i panni di yimmiro no yutum yutum yimmiro è morto prima eh 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 non mi puoi sbagliare su certe cose eh infatti allora pezzi di yimmiro che non aveva già un cazzo quindi non ce l'hanno adesso ahia diavolo porco ma da lì mi stanno sparando e vaffanculo oh ca oh ma non mi recensione male dici che lo perdo ah mi sa di si ma no ok no non va ma è che palle mi dovrei avvicinare per forza eh no e dai non potete farmi questo ah dopo tutto quello che abbiamo passato yunir gnut snarv ultimo stimpa se se no e che cazzo e vai ciao bello giusto granata munizioni vestito da mercenario wow capito? no meglio no ho finito se la mia prega a zero io metto ah non abbiamo capito un cazzo vuol permettere ma bravo lo stesso che vuol dire questo? cioccolata da gnang me la merito dopo la strage che ho fatto con questo personaggio del cazzo ne manca solo uno due nicchia no uno ma con colpo scherzavo personaggio sei bravissimo no minchia delle donne nude fai vedere fai vedere gira spara sono manichini spara niente prova a mirare di nuovo eh minchia come tazzo si fa a mettere un corso telescopico bene bene dove sono i bambini? ah eccolo tu hai pensato al concetto eh? ok andiamoci bene se sarà un paio di quei bastardi che ha visto il mondo per me ok? eh veramente ti eliminati già tutti stronzo e chissà perché i bambini non riescono a morire in questo gioco del cazzo voilà torette non è come sembra non è un personaggio steen e michael jackson oh cazzo perché scompaiono? l'apertura è troppo piccola per passarci ok ci dovremo vedere fuori quindi dato che mi sono strarotto le pale di questo cazzo di gioco vuoto oh mio dio no un omicidio ma chi se ne fotte ce ne stanno tanti altri quindi un ciao da Valera Matateva e Boba Matana al prossimo